ci eravamo lasciati tre giorni fa i banchi di terranova pronti per il vero atlantico ma le cose non sono andate proprio come dovevano andare per alberto bona e class 40 ipsa e in realtà per quello che venerdì scorso era il gruppetto di testa della regata che ora si trova in coda a combattere con il vento leggero e con il rientrare da una scelta non azzeccata la scelta in questione è stata presa i banchi di terranova tra venerdì e sabato e la chiameremo opzione nord all'epoca si rivelava promettente ma non ha funzionato relegando alcuni tra i big della regata compresi tutti e tre gli equipaggi italiani nella seconda metà della classifica inutile recriminare bisogna solo combattere contro un meteo non degno di questa regata che riserva alte pressioni venti leggeri nebbie e contro il calendario che allunga i giorni di navigazione con quello che ne consegue in termini di stanchezza a livello di provvista e concentrazione a rilevamento di lunedì 8 luglio ore 12 e 30 il s40 ipsa si trovava dopo sette giorni e mezzo di navigazione a 1645 miglia dall'arrivo avendone navigate solo 1200 con media di velocità quasi la metà rispetto al gruppo sud la situazione al momento è quindi complicata si abbandona l'opzione nord iniziando a rientrare tentando di farsi trovare in un'area di più vento nei prossimi giorni ma se nel calcio la partita non è finita fino a quando l'arbitro fischia qui vale lo stesso si è in regata fino a quando non vedremo l'orizzonte le mura di sun malo luo 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 luo